Buongiorno e buon venerdì 13 settembre, il giorno della presentazione oggi a Milanello di Ante Rejvic e veniamo al problema importante. Innanzitutto mi auguro che se vi sia piaciuto il nuovo soprannome per Ante Rejvic Sacro Fuoco. Spero che vi sia piaciuto, mi sembra di sì e vedremo se potrà ardere il Sacro Fuoco fin da domenica contro il Verona anche se pare difficile. Allora io mi affeziono a volte a giocatori che vengono in questo momento additati come colpe di tutti i mali del Milan come quando vengono inseriti in squadra giocatori come Castiglieco e Borini. Borini dopo la partita contro il Brescia colto da qualche fischio prima ancora che toccassi un pallone l'ho visto nel corridoio che porta poi nel garage ed era dispiaciuto. Un giocatore che dà tutto, che è un giocatore che ha realizzato gol importanti, giocatore che è messo ricordiamo un attaccante messo spesso mezz'ala, addirittura è stato messo terzino rischiando di fare delle figure come a Siviglia ma non per colpa sua perché è in un ruolo dove lui non ha mai giocato, lui ripeto è un attaccante e quindi sta dando il suo contributo quando lo chiama l'allenatore Giampaolo quindi gli era rimasto piuttosto dispiaciuto per questi fischi a prescindere. Un po' quello che capita anche a Castiglieco c'è il terrore Castiglieco possa giocare a sinistra nel 4-3-3 visto che Pacchettà è rientrato da qualche ora che Reibic forse secondo l'allenatore, secondo l'allenatore non pare ancora pronto e Leao non può giocare lì ed ecco quindi queste le decisioni di Giampaolo e Castiglieco sembra che giochi un giocatore, che Verona giochi con un giocatore in più che indossi la maglia giallo-blu invece che la maglia rosso-nera. Castiglieco è un altro giocatore e che piace a Giampaolo proprio per il suo totale spirito di sacrificio perché aiuta la squadra in difesa si dà da fare, è bravo anche a colpire magari da lontano e ha realizzato gol utili nella scorsa stagione quindi che il Milan debba crescere ok, che il Milan debba presentare finalmente i nuovi acquisti siamo tutti d'accordo, però io domenica sarò a Verona, sarò dietro la porta dietro una delle due porte, sarò lì con mio figlio, con due miei grandi amici con cui vado sempre in trasferto ormai da tantissimi anni e farò il tifo per Castiglieco se giocherà a Castiglieco e farò il tifo per Borini se giocherà a Borini perché faccio il tifo per i giocatori che indossano la maglia del Milan a prescindere, io non fisco a prescindere, io applaudo a prescindere quindi Milan non perderà o vincerà solo per la presenza di Castiglieco Castiglieco tanto il suo rendimento lo dà non sarà uno dei giocatori top della Rosa del Milan siamo d'accordo, però è top per quello che riguarda lo spirito di sacrificio dicevo la corsa, la voglia di andare a tamponare la voglia di portare avanti la azione quindi ci sono anche gli altri speriamo ci sia che sì Benasser, Ceviglia che è ritornato vediamo cosa deciderà l'allenatore c'è sempre Celanoglu per Buonaventura io vedo l'ora, ecco, io vedo l'ora che torni il grande acquisto Buonaventura quello sì, che darà veramente la differenza in qualsiasi ruolo possa essere impiegato in attesa poi dei nuovi per vedere Leao, per vedere Rebic per sperare che Piontek torni il Piontek stratosferico dell'anno scorso però prendersela con Castiglieco e Borini non mi sembra giusto sono giocatori che danno tutto se l'allenatore li tiene in grado di giocare giocheranno loro al limite daranno quello che potranno dare ma sono sicuro che Milan vince o pareggia non diciamo altri risultati vince o pareggia per merito di Castiglieco se vince per merito di Castiglieco se pareggerà non sarà per demerito di Castiglieco prendersela con Castiglieco è un gioco inutile e troppo facile calma, speriamo che Castiglieco giochi una grande partita perché in quel momento indossa la maglia rossonera in attesa dei nuovi che io abbia tanta voglia come voi di vedere nuovi questo è comunque indiscutibile se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrani